Cosa faccio se la banca per fare il mutuo mi obbliga a sottoscrivere una polizza? Posso scegliere la compagnia di assicurazione o devo scegliere per forza la polizza che mi propone la banca? È vero che per fare un mutuo è obbligatorio fare un'assicurazione? In questo video ci sono tutte le risposte che cerchi. Ciao e bentrovato su questo canale. Io sono Giuseppe, sono un bancario con 13 anni di esperienza ed in questo video ti parlo delle polizze di assicurazione che spesso vengono vendute insieme ai mutui e ai finanziamenti. In questo video faremo una rapida panoramica sulle coperture che generalmente queste assicurazioni contentano, vedremo se e quali assicurazioni sono effettivamente obbligatorie e quali no quando si stipula un mutuo ed infine come tu puoi difenderti dalle pratiche commerciali scorrette e come puoi far valere i tuoi diritti. Questo video nasce da una domanda di un iscritto ed è un video assolutamente da guardare se prima o poi dovrai fare un mutuo o un prestito perché sicuramente la banca o la finanziaria ti proporranno delle polizze. L'argomento è molto vasto ma ho cercato di mantenere il video leggero tralasciando alcuni aspetti quindi se hai dubbi, domande oppure se vuoi aggiungere qualcosa non esitarlo a scriverlo qui in basso nei commenti. Il tuo commento o la tua domanda potrebbero essere molto utili per chi passerà su questo canale. Come al solito non voglio farti perdere tempo quindi in descrizione trovi i time code per andare direttamente alle varie parti di questo video che più ti interessano. Prima di iniziare però metti un like al video in questo modo mi aiuterai con l'algoritmo di YouTube ed in più sapere se sei interessato a questo genere di video. Non perdiamo altro tempo quindi e iniziamo subito. Quando si fa un mutuo o un prestito ci si impegna per diversi anni a pagare delle rate. Ma cosa accadrebbe se ad un tratto ci capitasse qualcosa che va al di là della nostra volontà e limitasse la nostra capacità di rimborsare il debito come ad esempio un incidente, la perdita del lavoro oppure se venissimo a mancare? Quali ripercussioni finanziarie avrebbe questo sui nostri cari, sulla nostra famiglia oppure su noi stessi, sulla nostra vita? Le polizze connesse ai finanziamenti servono proprio a limitare i rischi e l'incertezza che derivano da situazioni del genere. Queste polizze sono anche chiamate PPI e generalmente le garanzie prestate coprono il decesso, l'invalidità permanente, la perdita di impiego e l'inabilità temporanea. Normalmente nei primi due casi è previsto il pagamento di tutto il capitale residuo, o del finanziamento o di parte di esso. Negli altri due invece viene solitamente corrisposta per la durata dello stato di disoccupazione o invalidità temporanea una somma che corrisponde alla rata o ad una quota della rata. Chiaramente questo avviene per un periodo di tempo limitato. Queste polizze vengono generalmente sottoscritte contestualmente al finanziamento e normalmente il premio dovuto viene finanziato aggiungendola all'importo richiesto per il mutuo e il prestito oppure possono anche essere finanziate separatamente con un prestito a parte. Ora che abbiamo capito di cosa stiamo parlando, vediamo quando una polizza è da intendersi obbligatoria e quando invece è semplicemente facoltativa. Sono da considerarsi obbligatorie quelle polizze assicurative che sono condizione necessaria per ottenere il finanziamento. In questi casi la banca ha l'obbligo di comunicare preventivamente al cliente la necessità di queste polizze. E questo perché in caso di polizze obbligatorie deve dare all'interessato il tempo di reperire sul mercato polizze assicurative con requisiti simili o equivalenti a quelli richiesti dalla banca. Proprio così non sei obbligato a sottoscrivere la polizza con l'istituto con cui fai il mutuo. Quindi anche se la polizza è obbligatoria, puoi liberamente scegliere la compagnia assicurativa che preferisci, a patto chiaramente che la polizza fornisca le stesse garanzie o comunque garanzie equivalenti. Ma all'atto pratico, quali sono le polizze obbligatorie che solitamente vengono richieste dalla banca? Normalmente condizione necessaria per ottenere il mutuo è la presenza di una polizza contro il rischio di incendio che assicuri la casa che sarà ipotecata. Qualche volta però può succedere che la banca per poter concedere il mutuo richieda ulteriori polizze obbligatorie. Ad esempio, in alcune circostanze potrebbe richiedervi una polizza vita. Oppure se l'immobile da ipotecare è stato oggetto di donazione, potrebbe chiedervi di sottoscrivere una polizza che la tuteli dalla rivalza di eventuali eredi insoddisfatti. Questi casi comunque rappresentano delle eccezioni. Nella quasi totalità dei casi, l'unica polizza obbligatoria richiesta è quella per l'incendio. Ed in ogni caso, come ti ho detto, quando una banca impone una polizza assicurativa, sei libero di stipularla con qualsiasi compagnia. Ma le polizze PPI di cui parlavamo all'inizio sono o non sono obbligatorie? In quasi tutti i casi, le polizze PPI che ti vengono proposte dalla banca, cioè quelle contro il rischio di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea e perdita di impiego, sono facoltative. Assolutamente facoltative. Non solo. Questa facoltatività, secondo le previsioni di legge, non deve essere solo formale, ma deve essere sostanziale. Questo significa che sia l'ammissibilità del mutuo e sia le condizioni con le quali questo mutuo sarà stipulato, quindi tasso di interesse, costi di istruttoria e così via, non devono in alcun modo dipendere dalla sottoscrizione o meno della polizza stessa. Ma che fare se la banca ci imponesse come condizione sine qua non per ottenere il mutuo la sottoscrizione della polizza PPI? In effetti, il consumatore, quando sta trattando per stipulare un mutuo, si trova, diciamo, dalla parte debole del rapporto contrattuale. Infatti non sa né se e né quando il mutuo gli sarà accordato, essendo il tutto a unilaterale discrezione della banca. Di conseguenza potrebbe sentirsi costretto ad accettare delle polizze facoltative se viene ventilata l'ipotesi, che in caso contrario il mutuo non verrà concesso. In circostanze del genere, quando il consumatore viene inopportunamente condizionato a sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa, ci troviamo di fronte ad una pratica commerciale scorretta, così come stabilito dall'articolo 21,3 bis del Codice del Consumo. Quando il consumatore è vittima di queste pratiche commerciali scorrette e quindi non gli venga data la possibilità di avvalersi dei suoi diritti, puoi inoltrare un reclamo all'intermediario o direttamente alla compagnia di assicurazione, magari inviando la lettera per conoscenza anche all'IVAS, che è l'istituto di vigilanza per le compagnie assicurative. In caso di reclamo, la compagnia ha 30 giorni di tempo per risponderti. Nel caso non lo fa, puoi rivolgerti all'arbitro finanziario ed in ogni caso puoi sempre rivolgerti a giudice ordinario. Poi puoi anche segnalare l'accaduto all'autorità per la concorrenza del mercato, la GCM. E questo può comportare severe pene pecuniare e altre sanzioni accessorie per l'istituto o l'intermediario scorretto. Tuttavia, c'è anche un'altra strada che nell'immediato può porre rimedio almeno in parte al torto subito, e cioè recedere dalla polizza. Per prevenire i comportamenti commerciali scorretti da parte degli intermediari, infatti, per chi sottoscrive una polizza facoltativa connessa ad un finanziamento, è prevista la facoltà di recedere entro 60 giorni dopo la conclusione del contratto. Questo è forse lo strumento più semplice e potente per opporsi alle pratiche commerciali scorrette. Significa che dopo aver ricevuto i soldi del mutuo, dopo aver acquistato casa e magari dopo esserci anche andati ad abitare, potete decidere di recedere dalla polizza senza spiegarne neanche il motivo. Ed il tutto sia che la vendita sia avvenuta in maniera corretta oppure no. Quello che avverrà è che la compagnia di assicurazione ti restituirà i soldi al netto delle imposte ed è il periodo fruito tra la conclusione del contratto e di recesso. L'importo deve esservi rimborsato entro 30 giorni e se il pagamento del premio è stato finanziato, l'importo così ottenuto andrà generalmente ad estinguere il finanziamento stesso. Ma è davvero così semplice fare il recesso? Sì, è sufficiente inviare una raccomandata di recesso direttamente alla compagnia assicurativa. Occorre semplicemente prestare attenzione ad inviare una raccomandata per ogni polizza, in quanto i diversi rischi potrebbero essere assicurati da compagnie di assicurazione diverse ed occorre quindi inoltare il recesso per ogni specifica compagnia. I dati relativi alla compagnia assicurativa e alla polizza li trovate nel modulo di adesione che dovete necessariamente firmare per aderire. Se non vi è stato consegnato potete chiederne una copia in banca. Per aiutarti in questa procedura in descrizione trovi un modello che potresti utilizzare come spunto per scrivere la lettera di recesso. Su questo canale trovi altri video che riguardano il tema dei mutui e finanziamenti e i tuoi diritti quando hai a che fare con banche ed assicurazioni ed altri video saranno pubblicati in futuro. Se sei interessato a questo argomento valuta di iscriverti al canale e fammelo sapere mettendo mi piace a questo video. Adesso che forse ne sai qualcosa in più dei tuoi diritti quando chiedi un mutuo forse vorrai sapere quanto puoi chiedere di mutuo o come ottenere un mutuo al 100%. Al termine di questo video potrai scegliere quale video guardare. Per oggi è tutto, grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video.